Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali di Per Sempre News. Iniziamo il notiziario di oggi parlando del vaiolo delle scimmie. Restano in quarantena gli oltre 20 membri dell'equipaggio della nave per il trasporto di cereali battente bandiera liberiana, bloccata dalle autorità sanitarie argentine nella provincia di Santa Fe, per un caso sospetto di vaiolo delle scimmie. L'imbarcazione aveva lasciato l'Atlantico del Nord il 12 luglio dopo essere entrata in un porto russo e olandese e due settimane dopo era arrivata in Brasile, dove è rimasta oltre una settimana nello scalo di Santos, prima di riprendere il largo verso l'Argentina. Secondo quanto riportano le tv locali, il personale medico salito a bordo ieri sera ha sottoposto ad un test almeno un membro dell'equipaggio che presentava sintomi compatibili col virus. Nessuno potrà sbarcare dalla nave fino a quando non si conosceranno gli esiti degli esami. Continuiamo con la cronaca internazionale. È di almeno tre morti e un ferito grave il bilancio di una sparatoria avvenuta in mattinata all'interno di una scuola superiore a Sanski Most, nel nord-ovest della Bosnia. Lo rende noto il portavoce della polizia del cantone Unasana, Adnan Beganovic. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un dipendente ausiliario della scuola, che ha aperto il fuoco contro i professori mentre erano in riunione. Sarebbe l'aggressore la persona rimasta ferita. Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte, mentre una quarta ha riportato ferite ed è stata trasportata presso il centro clinico universitario della Repubblica Serba, ha detto Beganovic. I dettagli della sparatoria non sono ancora noti e ulteriori informazioni saranno note nel corso della giornata, ha aggiunto. Chiudiamo il notiziario di oggi parlando del caso di Yannick Sinner. È una bufera quella che si agita attorno al tennista. Il primo italiano a diventare numero uno al mondo è stato messo sotto processo per un doppio test che ha riscontrato tracce, seppur minime, a di uno steroide anabolizzante. Il tennista è stato però scagionato dall'agenzia antidoping del tennis per contaminazione involontaria. Il campione di sesto pusteria non è stato squalificato. Dopo aver vinto il torneo di Cincinnati potrà giocare gli US Open al via lunedì. Un fisioterapista dello staff avrebbe comprato una pomata cicatrizzante in una farmacia italiana, per un taglio al dito, non sapendo che conteneva costable. Poi ha manipolato il corpo di Sinner senza guanti, venendo a contatto con alcune lesioni cutanee. Di qui la minima quantità. Per il principio di responsabilità oggettiva, Sinner ha patteggiato la rinuncia al monte premi e ai 400 punti ATP di Indian Wells. Queste erano le notizie di oggi, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, sempre sui canali di Per Sempre News. Buona serata.